credo che andremo a circolo massimo al concerto anche ma siete di roma no siamo di del veneto cosa ti aspetti per il 2024 e spero sia un anno migliore a livello climatico a livello di virus a livello economico di qualsiasi cosa ultimi anni sono stati un po complicati ma gli ultimi anni dopo il covid diciamo sono state abbastanza difficili e come festeggerai a casa in famiglia felicemente in famiglia niente concerto no niente concerto dopo la giornata di lavoro credo una miglior cosa in famiglia e uno si deve pure anche riposare poi concerti li fanno tutti gli anni adesso 2023 che anno è stato bello molto da tutti quanti si si ringraziando a dio quest'anno è andato bene 2024 speriamo meglio perché gli ultimi anni tra covi dr pesanti per tutti non solo per me un augurio per l'anno prossimo che sia pace in tutto il mondo e che non soffrino bambini e donne specialmente le donne che sono massacrate a casa che anno che anno è stato questo 2023 a me è piaciuto il 23 è un bel numero a me piace molto meglio rispetto agli ultimi anni covid vabbè sì certo anche perché insomma quest'anno è andata meglio da quel punto di vista per il 2024 un augurio cosa si aspetta un po più di saggezza nel mondo un po più di buonsenso e come al solito salute per tutti c'è un po di preoccupazione per queste guerre secondo me sì soprattutto i giovani noi forse siamo un po più grandi ma i giovani credo che siano abbastanza appesantiti da quello che sta succedendo intorno andiamo a un ristorante siriano perché noi siamo siriani quindi passiamo la serata lì allora non posso dire che è stato un anno peggiore però andato finalmente perché è stato abbastanza brutto però sempre ringraziamo dio che a tutto certo beh questi anni tra covi dr comunque sono stati impegnativi crisi economica per il 2024 un augurio che che hanno sperato speriamo che la pace per tutto il mondo e la serenità speriamo che la pace per l'anno